La crisi e solidarietà è la proposta di Giuseppe Denti nell'ambito dell'evento collaterale overplay della 55esima Biennale di Venezia. Giuseppe Denti è pittore attento, sensibilissimo, che filtra la realtà attraverso una sua particolarissima sintassi, definibile con figure metafisiche, realizzazioni di estrema sintesi. In Giuseppe Denti tutto è immediatezza di colore, tutto è sintesi, tutto è tratto definito e affermativo che tende a cogliere l'universalità del concetto al di là del dettaglio. In qualche modo Giuseppe Denti vuole compenetrare l'essenza del concetto senza definirlo con un'analisi che possa in qualche modo forviare attraverso il virtuosismo il significato, il virtuosismo tecnico, il significato ultimo della sua esecuzione. Giuseppe Denti quindi è preoccupato di arrivare direttamente all'idea, al punto, al significato del suo messaggio interiore, della sua idea di un mondo che comunque va indagato e comunicato fuori dal proprio cuore, al di là della tua personale percezione. Crisi e solidarietà è una composizione che pone il confronto tra due figure in un'ipotetica idea di unione e di protezione, due sagome, una dai contorni scuri e l'altra dai contorni più chiari che si incontrano. Nel particolare la sagoma più chiara sembra quasi stringere a sé l'altro ectoplasma, l'altra presenza che gli è accanto ed assieme definiscono quasi una dimensione unica in cui si ritrovano in una comunanza, in un'ideale comunanza umana. Da notare dal punto di vista stilistico la realizzazione a rilievo, quasi un effetto da basso rilievo che contribuisce a creare una particolare vibrazione quasi tridimensionale all'opera stessa. Giuseppe Denti quindi con questa esecuzione paradigmatica a frutto di un'esperienza di indagine che ha ridotto all'estrema sintesi la sua ricerca stilistica senza rinunciare a trasmettere la forza e l'intensità di un contenuto che vive nella profondità del suo cuore. Grazie a tutti.